10 milioni. Quando si aprì il primo congresso di medianità? A Cleveland nel 1852. Nel 1870 negli Stati Uniti si contavano 10 milioni di medianisti organizzati, 15 nel 1890. Molte entità che comunicavano attraverso i medium elementari di quel tempo avevano un'evoluzione molto limitata, che esprimevano al peggio, disorientando i seguaci spesso animati da un ottuso fanatismo. Poi, ubidendo alla legge, giunse il coordinamento di Allan Kardec.